e ripetete quello che dico io ma soprattutto guarda che va, che va i gelati, che va i gelati avete capito? al parco, al parco urbano prometto solenemente e lei brioche io non capisco perché mi hanno tolto la live, non posso trasmettere la diretta non lo so, non lo so come mai comunque stasera vi aspetto in tanti qua al parco urbano vi aspetto a tutti comunque non so che c'è che dobbiamo dire uguale un filiano e basta vi faccio vedere alcuni prodotti nostri di gelati dalla fragola alla nocciola biscotto limone pistacchio cioccolato ragazzi vi aspetto in tanti qua a Rocca di Caprileone al parco urbano vi raccomando vi aspetto non so che passa rischia prima grazie a tutti